a vandalazzi riniziamo questo video perché avevo messo il telefono un pochino oggi mi vedete così perché sto al parco vedete il parco bellissimo l'hanno pure luce e lì luce fatti vedere vabbè allora praticamente avevo montato il telefono e mi vedevo un po scosciata e quindi ho rifatto il video da capo e oggi mi sento tipo una moschetta perché c'ho il capello tutto fasciato l'estate vado sempre con le facce perché vado al mare quindi la piega se ne va a farsi benedire allora praticamente come dal titolo vi dicevo perché ho iniziato ad odiare gli uomini vabbè odiare no perché odiare a porco di la madonna di cristo è un brutto termine è un brutto termine però non sapevo altro come dirlo come spiegarlo ho iniziato un po a non sopportare la presenza femminile maschile perché perché ragazzi per chi ha avuto la opportunità di leggere il mio libro colpa di chi non chi poteva non quest'ultimo che è uscito non potevo giocare a nascondino e ho visto che molti di voi l'hanno comprato mi hanno detto più o meno mi hanno fatto le foto quindi non è che era come calta girone un libro che non esiste ci mancherebbe una un sosia un sosia di colpa di chi praticamente avrei ha capito che ho subito ho avuto parecchie violenze quando stavo per la strada ma non solo cioè le violenze non solo solo fisiche ma soprattutto sono delle violenze anche se non sono materiali le violenze si possono chiamare anche psicologiche allora innanzitutto io premetto che ho sempre avuto questa sindrome quindi come diceva tra poco si caricherà il video quell'altro come diceva un'amica mia la parola sempre comune è sempre stata ma dove la porto dove la posso portare quindi molte di queste domande se le saranno fatte anche questi uomini che io ho frequentato perché comunque non è che me l'hanno detto sempre in faccia questo non è un video di vittimismo è un video dove io comunque dico serenamente quello che mi è successo quello che io a 54 anni che faccio domenica ho tratto come conclusione come sintesi più che conclusione perché conclusione si conclude mai posso sempre incontrare un uomo che mi mi dia quello che mi possa dare posso incontrare una persona in generale che mi dia di quello che io ho bisogno però per il momento parliamo di quello che non è stato a poco da austi che tac allora io tante volte no mi sono fatta cioè è come se avessi voluto avere una famiglia per forza avere una storia per forza e quindi magari sono andata alla ricerca anche di persone cioè mi sono stata anche alle ricerche persone che sapevo che erano persone poco idonee per me perché a volte ci accontentiamo delle briciolette invece molte molte volte dobbiamo volere oddio si gira il coso qua la giostra dobbiamo pretendere la pagnottella intera perché le briciole le sanno raccogliere tutti invece la pagnotta intera la devi tagliare tu come prima persona quindi deve essere tu a dare il taglio e magari io mi ricordo no mi vestivo bella mi aggiustavo mi preparavo e tutto e poi venivo usata perché comunque non c'era mai un seguito e io non capivo mai da dove potessi sbagliare e quindi lì io diventavo isterica diventavo nervosa diventavo a volte anche antipatica nel senso che che davo quasi a buco d'aus e merda il motivo alla persona stessa per dire ma lasciami perde perché tu sei ossessionante quindi al retro cioè luce che giriamo mamma e mi rendo conto che queste persone non andavano trovando altro che il motivo per di ma vattene un po' a quel paese perché mi hai rotto e invece non era così perché io in effetti non facevo nulla di eclatante quindi era un problema loro che io lo vedo adesso è un problema loro che io vedo adesso e purtroppo non vedevo prima andando nel corso degli anni vabbè ho avuto un matrimonio ho avuto un'altra storia ho avuto un'altra storia ho avuto delle storie con delle persone mi sono allontanata da questo perché poi anche il fatto di di stare sui social nome a parte youtube la youtuber che ho iniziato a fare come influencer adesso però anche a buco d'aus anche stare su youtube e cioè stare su youtube stare sui social come facebook o altri siti instagram cioè non è che sono una persona sgradevole mi accimentavano accimenta tra virgolette importunavano mi corteggiavano però vedevo che quando magari sentivo mi sentivano parlare era era un retrocedere a buco d'aus e questo mi dispiaceva molto e quindi ho iniziato io cioè quando ho fatto il video con la diva del tubo e mi ha detto che lei faceva quel mestiere decoglionava gli uomini mi ha chiesto se a me faceva piacere una cosa del genere ho detto no io non lo farei mai come lavoro però quasi quasi qualche calcio li darei anche gratis a buco d'aus merda anche gratis perché che effetto guarda i capelli che capelli strani e qualche calcio le darei anche gratis perché se le merda proprio e quindi l'uomo è quella persona cioè ed io difficilmente ho trovato uomini uomini ma parte di spessore grande come che è stato di primo appuntamento che poi purtroppo francesco non è nato nulla perché forse tante delusioni del passato tante cose ho provato a riemergere un'altra volta in quest'amore però non è raffreddato niente forse perché sono proprio diventata fredda a questo argomento e quindi difficilmente un uomo si avvicinerà a me e sono sicura che molto molto difficile che un uomo possa conquistare il mio cuore o possa farmi dimenticare di tutte quelle angherie che ho vissuto a buco d'aus e ho passato perché anche da ragazza magari io quando strillavo l'ho raccontato qui nel libro non potevo giocare nascondino dove ho raccontato anche molte storie di ragazzi che dicevano oddio no non ci vergogniamo una cosa in altra cioè il fatto dei mitic ha influito molto e che l'uomo comunque da molti dispiacere alle donne perché le donne forse ma anche la donna da dispiacere all'uomo questo è un discorso in generale io per quanto riguarda me parlo per quanto riguarda me io non non ho proprio più la passione per questo genere umano chi mi sta sentito dice aiuto aiuto ma questo mi dà innazzambata no non mi dà innazzambata in nessun posto però purtroppo mi siete caduti sul cioè mi siete scaduti ecco mi siete scaduti questo non è un appello non è un appello matrimoniale a buco d'aus sono stata anche nelle a proposito visto che ho detto questo sono stata anche in qualche sito sono stata in in qualche quelle di cose matrimoniali ma non virtuali proprio reali ma quando gli spiegavano di me di questo problema che io si calta rigeronavano can calta rigeronavano tutti e quindi questo è quanto allora io oggi oggi domenica compie 54 anni io penso sempre che la mela è intera e se tu sei nata una mela la sei nata comunque già si contempla con dividere qualcosa con qualcuno è bello che poi può essere chiunque non deve essere per forza un uomo non può essere anche un animale può essere anche una buona amica quindi per quanto riguarda il messaggio uomo io mi darebbe proprio fastidio che mi cioè io tante volte viene il mio ex marito ma a parte quello che è successo tra noi però mi dà fastidio la la voce mi dà fastidio come si comportano come si cioè proprio fisicamente mi dà fastidio proprio come si muovono come come parlano come si esprimono se vanno al di là di di una semplice amicizia se mi iniziano un attimino a sei carino a fare delle avanze mi fa proprio mi danno un senso di nausea proprio di nausea ecco la parola giusta è un senso di nausea a volte mi dicono anche su facebook a poco da aus di merda scusa ma allora che mi hai fatto fare amicizia ma scusa ma non è che io ti ti do l'amicizia perché comunque ci deve stare qualcosa ma vai a cagare quindi cioè li tratto pure male quasi quasi inizio a fare il lavoro della diva ma almeno ci guadagno qualcosa scherzo io vi saluto da monteggitorio e tutto questa va dire un'altra volta il nome del paese da qui è tutto se volete ripeto il mio libro mi potete chiamare in nei messaggi o su instagram o su instagram oppure su su quelli che ho lasciato sul sul mio canale youtube vi saluto e poi vi vedrete anche il video della mia presentazione del libro spero che vi piacerà saluti anche da luce luce eccola di ciao mamma ciao di ciao non vi offendete uomini però io non ce l'ho con nessuno in particolare però il mio pensiero è questo bacione grande